Buongiorno a tutte e a tutti da Salvorusso in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo e tragitto che mi vado ad andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un'azienda informatica a Silacusa dal 1999 e in queste dirette che faccio da circa un anno o qualche mese mi piace affrontare determinate tematiche che spesso vengono sottoposti da altri cittadini, spaziamo da tantissimi tipi di argomenti per arrivare poi a provare ad avanzare delle proposte, provare ad avanzare delle soluzioni che poi si spera un giorno di riuscire ad attuare. Sabato quando ho fatto l'ultima diretta poi ci siamo lasciati con un passaggio per sintetizzare tutto, di provare a raccogliere le idee, le proposte, di cosa volevo parlare in queste dirette nei giorni.